L'Economia Pugliese Puglia dove le università e i centri di ricerca lavorano anche attraverso gli investimenti che la regione fa e con questi investimenti vogliamo far sì che i giovani abbiano nuove prospettive. Queste prospettive si costruiscono nell'aerospazio, si costruiscono nell'agroindustria, si costruiscono nell'energia, si costruiscono in tutti i settori in cui c'è grande valore aggiunto e il grande valore aggiunto è in primis quello della ricerca.